Roberto Ricci, responsabile area prove in Valsi. Gli studenti della primaria sono andati a scuola durante il lockdown, sono quelli che hanno sofferto un po' meno della didattica a distanza e il rapporto lo testimonia. Un dato curioso, calano nelle secondarie di primo grado e di secondo grado, nell'italiano soprattutto nella matematica, l'inglese tiene, non è più la bestia nera? No, non è più la bestia nera e questo dovrà essere approfondito e dovremo cercare di capire meglio perché probabilmente c'è anche un aspetto legato alla didattica della disciplina più, come posso dire, aperta anche a forme innovative ed inoltre non ci dobbiamo dimenticare che gli strumenti, le risorse disponibili per imparare l'inglese oggi sulla rete sono tantissime e quindi si sicuramente questo ha aiutato. Perché invece la matematica ha sofferto così tanto, soprattutto nelle superiori? La matematica, questo non solo in Italia, è una disciplina che si apprende prevalentemente a scuola. Anche le famiglie con strumenti culturali migliori, più forti, fanno più fatica ad insegnare, aiutare i propri figli con la matematica e quindi è chiaro che nel momento in cui si è ridotta di più la didattica in presenza, la matematica ne ha risentito maggiormente proprio perché è una competenza, una disciplina che si impara prevalentemente a scuola. Nella secondaria di secondo grado, poco meno della metà degli studenti non ha le abilità sufficienti, è preoccupante? Decisamente preoccupante, come ha detto anche la Presidente durante la sua relazione, credo che questo chiami tutta la società ad un maggiore sforzo, ad una maggiore adesione e ognuno per la propria parte, ovviamente la scuola, gli insegnanti, tutti noi, ma anche i genitori, le famiglie, dando importanza alla scuola, ai suoi contenuti e alle competenze che essa si trasmette. C'è una dispersione scolastico che sta diventando di nuovo molto troppo a rischio. Sì, sicuramente questo problema c'è, dobbiamo affrontarlo, è chiaro che in un momento in cui sono minori gli strumenti per aiutare i ragazzi quotidianamente, la dispersione è il primo aspetto che ne risente purtroppo negativamente. Ecco, credo che anche questo sia un punto dal quale ripartire, non ci possiamo permettere di perdere tanti ragazzi.